Ma perché fumare le sigarette è soddisfacente? Cioè, fumare fa proprio provare piacere, è un problema questo. Pensateci, non ci sarebbero milioni e milioni di fumatori in tutto il mondo se non fosse piacevole. Ed è così piacevole che tanti fumatori non danno peso ai gravissimi effetti collaterali del fumo. Fate conto che in Italia muoiono circa 93.000 persone all'anno a causa del fumo. 93.000, cioè come tutti gli abitanti della città di Pisa per intenderci. Ma perché? Perché non si riesce a smettere? Ragazzi, è tutta colpa della famosissima e maledettissima nicotina, la sostanza responsabile della dipendenza. Oggi quindi parliamo di nicotina, vediamo come agisce dal punto di vista biochimico nel cervello e scopriremo i metodi per smettere di fumare. Spoiler, esiste una nuova molecola di origine naturale che sembra essere particolarmente efficace. Piccola parentesi ragazzi, se vi piacciono questi video dove vediamo dal punto di vista biochimico quello che succede nel nostro corpo, la cosa più semplice che potete fare è iscrivervi al canale. Per voi è gratuito, ma per noi è fondamentale. Grazie mille. Partiamo col dire che la nicotina è una molecola naturalmente presente all'interno delle foglie di tabacco, quindi non è che viene aggiunta nel tabacco delle sigarette tradizionali o in quelle col tabacco riscaldato. C'è già, esiste già dentro. Per quanto riguarda invece le sigarette elettroniche, quelle con il liquido, in quel caso viene proprio aggiunta e sciolta appunto nel liquido. Ora, se facciamo un tiro di sigaretta, la nicotina passa allo stato gassoso, viene inalata, arriva nei polmoni, entra nel sangue e quindi raggiunge rapidamente il cervello. Una volta all'interno del tessuto cerebrale, la nicotina cosa fa? Va proprio a rubare il posto all'acetilcolina, quindi va a legarsi ai recettori dell'acetilcolina. Quindi nel momento in cui sui recettori è legata la nicotina, vengono rilasciate diverse sostanze, come per esempio la dopamina, la molecola responsabile della sensazione di benessere, piacere e gratificazione. Ecco perché fumare fa provare piacere. La nicotina in pratica fa produrre dopamina. Questa produzione di dopamina però porta al fenomeno della tolleranza. I recettori dell'acetilcolina con il tempo diventano sempre meno sensibili alla nicotina e quindi richiedono dosi sempre maggiori di nicotina per ottenere lo stesso identico risultato, quindi la stessa stimolazione. Tutto questo chiaramente spiega perché è molto facile diventare dipendenti, quindi sviluppare dipendenza neurobiologica. Infatti quando l'effetto della nicotina svanisce, cosa succede? Il desiderio di fumare torna praticamente subito di nuovo, creando un ciclo veramente difficile da rompere. Questo perché ormai il corpo si è abituato alla nicotina. Oltre alla dipendenza però la nicotina ha anche degli effetti collaterali sia a breve termine che a lungo termine. Sul breve termine, e questa cosa è particolarmente interessante, sul breve termine la nicotina può migliorare la concentrazione, può migliorare la memoria e può aiutare a ridurre l'ansia, sempre grazie al fatto che si lega ai recettori nicotinici dell'acetilcolina. In più la nicotina potrebbe anche aumentare la quantità dell'ormone della sazietà, la cosiddetta leptina. Questo spiega perché alcune persone che vogliono dimagrire fumano di più, proprio per avere meno appetito. Ovviamente fumare per dimagrire è assolutamente un metodo sconsigliato, per ovvie ragioni. A lungo termine invece, essendo legata al tabacco, la nicotina contribuisce indirettamente, ma in modo incisivo, a tutte le patologie associate al fumo, compresi i vari tipi di cancro. Ma quindi la nicotina di per sé è cancerogena? In realtà non è molto chiaro. Alcuni studi dicono di sì, altri studi dicono di no. In tutto questo però l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro non ha inserito la nicotina pura tra le sostanze cancerogene. È una questione di battuta e serviranno ulteriori studi. Anche perché se ci pensate non è facile capirlo. La nicotina è praticamente sempre associata al fumo. Servirebbero tantissime persone che fanno uso solo ed esclusivo di nicotina senza fumare alcun tipo di sigarette. Ecco, la cosa sicura è che sicuramente la nicotina non fa bene per tutto il resto dei danni che può provocare. Infatti la nicotina ha degli effetti importanti sulla vascolarizzazione, cioè agisce proprio come vasocostrittore e quindi diminuisce il diametro dei vasi sanguigni. Questo restringimento causa un aumento della pressione del sangue che può portare a sviluppare ipertensione arteriosa. In più fa aumentare il bacito cardiaco, sforzando ancora di più il sistema cardiocircolatorio. Oltre a questo la nicotina può far proliferare il papilloma virus umano, HPV, quindi può contribuire allo sviluppo di malattie legate a questo virus. Come ultima questione c'è da specificare che quando si assume nicotina attraverso le sigarette, quindi fumando, la nicotina può causare cambiamenti nel nostro cervello, specialmente in una parte importante chiamata corteccia prefrontale. Questa parte del cervello è importante perché ci aiuta a pensare in modo logico, prendere buone decisioni e controllare i nostri comportamenti. E quando fumiamo questa parte del cervello può diventare più piccola e quindi meno efficace. E come se non bastasse, fumare le sigarette può anche aumentare la probabilità di avere malattie gravi come il Parkinson e l'Alzheimer. Ecco, quindi capite bene che la nicotina non è semplicemente la sostanza che causa dipendenza, è anche particolarmente dannosa sia per il corpo che per il cervello. Ed è per questo che esistono diversi metodi per smettere di fumare. Spesso questi metodi prevedono l'utilizzo di nicotina, così da soddisfare il fumatore ma senza fargli assumere le tantissime sostanze tossiche e cancerogene del fumo. Questi metodi funzionano abbastanza bene, però quelli a base di nicotina possono causare dipendenza. Ed ecco che arriva la molecola di origine naturale che dicevamo all'inizio. Recentemente è stato pubblicato uno studio sul The New England Journal of Medicine, che è una delle riviste, se non la rivista più importante del mondo per quanto riguarda la medicina, che parla di questa molecola in grado di far smettere di fumare più efficacemente della nicotina, senza causare dipendenza. Stiamo parlando della citisina, una molecola estratta direttamente dalla pianta di maggio ciondolo. In questo studio cosa hanno fatto? Hanno preso un gruppo di 1310 fumatori e l'hanno diviso a metà. A 655 hanno dato citisina per 25 giorni e agli altri 655 nicotina per 56 giorni. Risultato? Il 40% di quelli che hanno ricevuto la citisina ha smesso di fumare, mentre solo il 31% di quelli che hanno ricevuto nicotina ha smesso di fumare. Quindi sembrerebbe più facile smettere di fumare con la citisina, tra l'altro solo in 25 giorni rispetto ai 56 della nicotina. C'è da dire però che le persone a cui è stata somministrata la nicotina hanno avuto un minor numero di effetti collaterali come nausea o vomito, ma comunque in modo paragonabile a quelli che hanno ricevuto la citisina. È molto importante però sottolineare appunto che la citisina non induce tolleranza o assuefazione. Questo significa che non crea problemi di farmacodipendenza al paziente, cioè non si diventa dipendenti dalla citisina. Questo è un vantaggio abbastanza importante rispetto alle terapie con la nicotina, che è vero che aiutano a smettere di fumare, però possono a loro volta creare dipendenza. Ecco, quindi la citisina è una nuova molecola che è sotto i riflettori e che potrebbe dare un buon contributo per smettere di fumare. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e noi come sempre ci rivediamo qui su Jopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Alla prossima!